Cosa pensi che sia? Innanzitutto diciamo che è il tuo regalo di Natale Dato il 10 però anticipatamente Dato il 10 però perché se no poverino Vabbè visto così, alto così, sicuramente una statua, qualcosa, una statuina, un action figure, qualcosa del genere Sì, è una statuina Non so di quanti centimetri, credo una ventina 20, 25 È bella grande Dipinta o no? Dipintissima Ho appena finita adesso O Michael Myers fatto in resina con tutto lo scenario Perché vedo che sotto c'ha sembra abbastanza largo per una base Quindi con la scala tipo Cos'è lì, come si chiama? Haddonfield No boh, così alto Non mi mette nulla Perché tanto sai che le cose che mi garbano sono quelle lì Oppure... O Halloween O venerdì 13 Sennò che a livello di videogiochi O è qualcosa della GV ma cose della GV non si trovano O Alien O Space Marine Una Space Marine Un Primaris O coso? Isaac Clarke Perché fai... 6? 5-6 Isaac Clarke Anche della... Come si chiama la nave sua? Non mi ricordo Ishimura Ishimura Dead Space Sì, sì, sì Una di queste Ma non lo so Sono secchia Perfetto, vai Aspetta Dai, una di queste Non lo so Dead Space Isaac Clarke La accendi? Sì Piano, piano Ma da qui? Da quella giù Aspetta, si arriva un attimino Da No Maschi No, ma l'hai fatto anche lucido Quanto cazzo è grande È grandissimo Ma è quello che si comprò al progetto? No, non si comprò Questo lo trovai gratuito Posso toccarlo? Sì Piano, piano Pianissimo Perché è fragilissimo Questo Questo è plastica E questo è resina Allora La base è Una parte tutta Cioè L'80% in plastica Il centrale È in resina Tutto il resto È un xenomorfo Che l'ho chiamato Gianluigi Ecco Gianluigi mi baci Aspetta la coda Che fragilissimo No, vabbè Lui è tutto in resina Tutto Allora Che lavorare Lo sai, va lì, eh È ovvio L'ho fatto per quello Ci ho messo Quasi due settimane Ma una settimana Di lavoro Solo su supporto Si può alzare? O regge La figura Vabbè Non la mette a testa lì in giù Ovviamente No, regge la figura Ma attento Uno la sollevi Perché ho paura Che ti scivola E si spacca No, questo è proprio Lo sai che questo è il warrior Dello xenomorfo Quello dell'LV426, eh Questo è proprio quello di Aliens Questo progetto qui È difficilissimo da trovare Ma mi traiamo le mani L'unica maniera L'unica maniera Per trovarlo O paghi Oppure ci sono dei siti Ma io non lo consiglio Che lo mettono in vendita Un cazzo Però Lo sai che Lo sai che è una cosa così Se tu la mettessi in vetrina A Luca Comics Ci si fermerebbe la gente A farci le foto No, è bellissimo Mi sarebbe gravato Andiamo a mangiare Guarda Gli effetti Della propria pioggia Eccetera No, vabbè Poi guarda là Con tutti i teschi Cioè sembra che esca Dalla sua tana Dove ha messo Tutti quanti i teschi Che poi loro Difficilmente teschi, eh Perché non è il Predator Poi è bellissimo Ti amo Regalo di Natale più bello Regalo di Natale più bello Regalo di Natale più bello